Siamo arrivati a Cracovia, stiamo attendendo l'arrivo del pulmino che caricherà gli ultimi pacchi e gli ultimi sacchi che poi verranno trasferiti nel luogo opportuno. Noi andiamo a Ukraina da Iazłowiec, da suora Kamila anche suora Anna, suora Kamila aiutare per 60 bambini, forse più, suora Anna, cioè tanti persone vecchie Malati.